Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Alta pressione ben distesa su tutta Italia determinerà una giornata nel complesso stabile e anche particolarmente mite da nord a sud. Pertanto questo venerdì ci aspettiamo cieli sereni su quasi tutta Italia, qualche nota instabile sull'acqua alpino, un po' di cieli nuvolosi all'estremo sud per effetto di polvere sahariana proveniente dal nord Africa che però non produrrà precipitazioni. In Abruzzo si prospetta una giornata primaverile con cieli ampiamente sereni, nessun rischio di piogge o temporali, solo un po' di vento, specie lungo le coste, trattasi di ventilazione debole a tratti moderata, decoranti settentrionali. Le temperature stazionarie massime tra i 15 e i 20 gradi, minime tra 6 e 12 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.